Siamo a Sanremo, Radio Bruno E qui a Sanremo, a Radio Bruno abbiamo Anna, benvenuta Oh, pronti! Tu sei pronta? Sono prontissima Prontissima? Dai che stasera parte il festival, via! Però lo chiedo a te, la settima volta? Eh, è come se fosse la prima, guarda Ti posso dire, anzi secondo me è la vera prima volta Perché quando avevo 15 anni comunque era giovanissima e prendevo tutto un pochino più alla leggera Poi col passare degli anni comunque ti rendi conto dell'importanza del festival e di tutto ciò che lo avvolge mediaticamente, no? Hai una canzone molto bella, libera, che anticipa il tuo nuovo lavoro, scritta da Checco Che hai conosciuto proprio a Sanremo nel 2011, non conosciuti in fotografica È vero, l'ho conosciuto per i non conosciuti in fotografica, mi dici così quindi non lo vuoi menzionare ed è giusto E niente, ci siamo conosciuti lì, dopodiché lui è venuto ospite in questo programma che si chiama Questi siamo noi, condotto con Gigi E niente, piccoli, scriccoli, scricchioli E niente, da lì è nata la collaborazione perché lui mi ha, proprio nel momento in cui facevamo le prove Mi ha detto, guarda ti va di sentire una canzone, secondo me è adatta a te E da lì è nata questa collaborazione, con Mucciaccia e infine con Libera E come ti senti con lui come autora? Una sicurezza, una garanzia? Ma guarda, lui ha un linguaggio molto bello perché è diretto, è diretto e molto normale Non è super sofisticato ed è quello che piace alla gente Infatti secondo me il suo segreto è quello di arrivare nell'immediatezza alla gente E soprattutto quando parla d'amore, dell'amore vero E su questo per me lui è veramente bravo Radio Bruno